Vetrocar è un'azienda specializzata nella riparazione e sostituzione di cristalli per auto che alla sede a Verona, partendo da Verona, oggi è presente in tutte le regioni d'Italia, copre oltre il 90 per cento del territorio e dà capillarità con oltre 180 filiali e 120 service point, per cui oltre 300 punti in cui diamo assistenza agli automobilisti che hanno avuto un danno ai cristalli della propria auto. Dicevo è un'azienda che parte da Verona e parte soprattutto da un'esperienza imprenditoriale di una famiglia veronese, di imprenditori che da 50 anni sono attivi nella distribuzione del ricambio auto. Dal 2015 è iniziato un percorso di riposizionamento di strutturazione manageriale dall'azienda e un posizionamento di mercato che ha visto l'azienda da quel momento affermarsi in maniera impressionante in questo settore. Abbiamo avuto delle... diciamo siamo stati investiti in una violenta crescita, mi viene da dire, che ci ha permesso di essere tra le eccellenze italiane. Considerate che per il secondo anno consecutivo siamo per il sole 24 ore per Repubblica, affare a finanza di Repubblica, nelle indagini che combiano ogni anno, tra le 300 aziende italiane che sono cresciute di più in termini di fatturato. Aggiungiamo a questo che proprio di questi giorni il riconoscimento da parte di Financial Times, di Financial Times, che ci cita tra le mille fast growing europee per il secondo anno consecutivo, per cui tra le aziende europee, tra le mille aziende europee che sono più cresciute nell'ultimo triennio in termini di fatturato. Il 2020, come così, per sostenere la nostra crescita, ogni anno cerchiamo di evolvere quello che è il nostro livello di servizio ai clienti. Il 2020 per noi è un anno importantissimo, il nostro piano strategico annuale. Abbiamo... stiamo portando avanti delle direttrici che ci permettono, direttrici strategiche che ci permettono di migliorare quella che è la logica di servizio al cliente. Per noi il servizio al cliente che si rega nella nostra filiale oggi è un cliente che subisce un disagio, subisce una rotazione che ha un disagio. Noi dobbiamo, al di là dell'aspetto tecnico ineccepibile che oggi viene dato nei nostri filiali, che è proprio l'aspetto tecnico della sostituzione del vetro, stiamo cercando di arricchire questa attività con una serie di servizi più soft e meno, diciamo, tecnici, appunto, che possano agevolare quello che è l'interazione con il cliente. Dalla semplice momento del contatto con noi che può avvenire attraverso N canali, multicanalità del servizio d'approccio telefonico, digitale, online, su WhatsApp, eccetera, fino all'attività di esecuzione del servizio che può avvenire attraverso prese e riconsegna dell'auto piuttosto che il servizio mobile e tutte attività che svolgiamo gratuitamente, fin e non ultimo alla riconsegna dell'auto al cliente. Per cui una serie di servizi in aggiunta a quello tecnico di sostituzione del vetro che possono garantire la customer experience.